Informazione di servizio. Tra poco inizia l'estate, per cui ho intenzione di modificare un po', l'uscita dei video, manderò in pausa Darkness Fall, il mondo di morte bianca, Lego Fortnite, mi dedicherò a fare principalmente delle live nel pomeriggio dalle 14 alle 16. I gameplay saranno randomici, a settembre ricomincerà il ciclo tradizionale, vi ringrazio.